Questo ha udito raccontare, che si scontrarono in singolar tensione il De Brando e Adugando fra gli eserciti. Il figlio e il padre le loro armature aggiustarono, prepararono le loro vesti di guerra, si cinsero le spade, gli eroi sopra gli anelli, e quindi alla battaglia cavalcarono. Il De Brando parlò, figlio di Eri Brando. Egli era uomo più anziano, della vita più esperto. Egli a domandare cominciò con poche parole, chi suo padre fosse degli uomini nella schiera. Oppure di quale stirpe tu sia, se tu uno me ne dici, io gli altri conoscerò, figliolo, nel regno del re, nota, mi è tutta la schiera armata. Ad U Brando parlò, figlio di Il De Brando. Questo mi dissero le nostre genti, antiche e sagge, che prima vivevano, che Il De Brando si sarebbe chiamato mio padre. Io mi chiamo Ad U Brando. Un tempo egli verso oriente partì, fuggiva all'odio di Odoacre, insieme a Teodorico e a molti suoi seguaci. Egli lasciò il padre in difesa risiedere la moglie nelle sue stanze, il figlio non ancora cresciuto, di eredità privo. Egli cavalcò in direzione dell'Oriente, allorché Teodorico bisogno ebbe di mio padre. Era un uomo così privo di amici. Egli era con Odoacre senza misura di rato, il più amato dei seguaci con Teodorico. Era sempre alla testa dell'esercito. A lui fu sempre la lotta molto cara. Noto era egli agli arditi guerrieri. Io non credo che ormai vita abbia. «Prendo a testimone il potente Dio», disse Il De Brando. «Dall'alto del cielo, che tu finora già mai con un così stretto parente hai ingaggiato un duello». Svolse egli allora dal braccio i ritorti anelli fatti d'oro, che a lui il re aveva dato, il signore degli unni. «Ecco, a te questo ora dono il segno di benevolenza». A Dubrando parlò, figlio di De Brando. «Con la lancia si devono ricevere i doni, punta contro punta. Tu sei, vecchio uno, senza misura scaltro. Mi alletti con le tue parole. Vuoi con la tua lancia colpirmi?» Così sei invecchiato, perpetrando continui inganni. Questo mi dissero coloro che viaggiano per mare verso Occidente, sul mare dei Vandali, che lui la lotta rapì. «Morto è il De Brando, figlio di Ribrando». Il De Brando parlò, figlio di Ribrando. «Bene, io vedo dalla tua corazza che tu hai in patria un buon signore, che tu da questo regno ancora non fosti bandito. Ahimè ora, potente Dio, il doloroso destino si compie. Io errai per sessanta estate ed inverni fuori dalla patria. Là sempre mi si designò nella schiera degli arcieri. Ma nessuno presso alcuna città mi arrecò morte. Ora il mio proprio figlio con la spada mi colpirà, abbatterà con il suo brando. Oppure io a lui diverrò causa di morte. Quindi puoi tu facilmente, se ti basta il coraggio, a un così antico guerriero conquistare l'armatura, derubare le spoglie, se tu ne hai qualche diritto. Colui sarebbe in vero ora il più vile, disse il De Brando, delle genti d'Oriente, che a te ora negasse la lotta, ora che ciò così tanto brami, il mutuo combattimento. Tenti colui che può, quello dei due che oggi possa gloriarsi di queste armature, finché entrambe queste corazze posseggano. Allora lasciarono dapprima volare le lance, con violenti rovesci che sugli scudi si abbattevano. Allora si avvicinarono l'un l'altro. Gli scudi della battaglia ruppero, colpirero rabbiosamente gli splendenti, finché i loro scudi di tiglio, piccoli di venero, distrutti dalle spade.